Io direi un tema a piacere, il risultato di oggi è un risultato storico, come anche vi hanno detto i sindacati, erano anni che non si riusciva ad avere un rapporto corretto e di collaborazione tra l'amministrazione e i sindacati. Noi abbiamo inteso ribaltare questa modalità operativa, secondo noi la struttura vince se lavoriamo tutti insieme. Siccome l'obiettivo dell'amministrazione è quello di erogare servizi al più alto livello possibile, noi abbiamo cercato insieme alle parti sindacali di trovare un accordo che premiasse il lavoro fatto bene e il lavoro fatto bene si misura sulla base dei servizi erogati. Quindi questo è un po' il cuore di questo contratto, questo unito a una scuola di formazione permanente che consenta ai dipendenti e ai funzionari di essere sempre aggiornati sulle novità normative che il nostro Parlamento non lesina di offrire. Questo è l'obiettivo comune, quello di migliorare l'amministrazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Grazie.